cari amici buongiorno benvenuti al caffè biblico oggi vorrei parlarvi di yannick sinner il nostro grande campione italiano alto tesino che anche pochi giorni fa vinto un grandissimo us open un grande slam ha trionfato contro l'idolo di casa 3 a 0 gli ha rifilato io seguo yannick sinner da almeno due anni e quindi ho visto la sua crescita adesso è numero uno ormai da mesi e lo sarà ancora per molti altri mesi perché dietro di lui c'è il vuoto ma anche i grandi campioni come yannick sinner hanno i loro problemi loro pesi loro scheletri nell'armadio yannick sinner è stato trovato positivo a una sostanza dopante e pochi mesi fa a marzo e per due volte e quindi ha dovuto fare ricerche ha dovuto fare trovare una difesa perché rischiava una squalifica di ben 15 mesi e c'è chi ha lasciato lo sport dopo una squalifica di questo genere 15 mesi nel proprio nel massimo della sua ascesa sarebbe stato micidiale per chiunque e yannick sinner poi chi ha questa faccia pulita di bravo ragazzo educato gentile anche con i raccatapalle anche con i suoi tifosi gli avrebbe rovinato la faccia e lui ha giocato gli ultimi tornei con questo peso con questa spada di damocle adesso mi arriva la multa adesso mi arriva il giudizio ha fatto ricorso ma non sapeva se sarebbe stato accettato poi proprio durante a metà dell'ultimo torneo è arrivata la bella notizia che ricorso è stato accettato c'era solo un'ultima possibilità che la guada un'agenzia apposita facesse a sua volta ricorso contro di lui ma proprio pochi giorni fa ho saputo che anche la guada ha non ha presentato ricorso e quindi è pulito può continuare a giocare senza più questo pericolo e questo mi ha fatto riflettere quante persone hanno scheletri nell'armadio quanti hanno dei problemi con cui devono in qualche maniera affrontare la realtà giorno dopo giorno jannick siner ha dichiarato sembro tranquillo all'esterno ma dentro c'è una tempesta in corso a volte devi giocare con la poker face cioè con la faccia del giocatore di poker che non deve far vedere le sue emozioni non deve scoprire quello che ha in mano quanti purtroppo vivono così ma se tu sei caro amico uno di quelli che ha questo peso questo rimorso questa attesa di una multa o di un giudizio o forse anche dell'inferno per te c'è una buona notizia per tutti noi ve la voglio leggere dal nuovo testamento non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in cristo gesù non dice per quelli che sono buoni se no molti di noi siamo tagliati fuori non dice per quelli che sono in quella o quell'altra religione ma per quelli che sono in cristo gesù per quelli che hanno questo rapporto personale e perché perché chi è in cristo è pulito perché gesù ha pagato al posto nostro perché gesù ha pagato sulla croce il nostro debito e ci ha pulito da ogni condanna da ogni giudizio questa è la buona notizia di oggi dio ti benedica caro amico